Se le avessi sentite arrivare, se avessi capito che il cerchio si chiudeva inesorabilmente intorno a me, forse adesso non sarei qui. Che significa? Devi seguirci in commissariato. Io non vado da nessuna parte. Non costringermi a farlo davanti a tua figlia. Guido Borghi la dichiara in stato di fermo per l'omicidio di Maurizia Scalzi. Ha diritto a rimanere in silenzio e a chiamare un avvocato di sua fiducia. Complimenti. Ma il futuro non si può prevedere. E il passato non si può cambiare. Il passato chiede il conto. Il passato ti intrappola. E io sono stato intrappolato. Ma se questo è il prezzo da pagare per salvare la mia famiglia, se questo è l'unico modo per salvare te, amore mio, io sono pronto a pagarlo. Ciao.